Sarà la serata che vedrà Risto Zlatanov tagliare il fenomenale traguardo dei 9.000 punti in carriera visto che al capitano di Copra Elior sarà sufficiente piazzare a terra due palloni soltanto questa sera al Palabanca al cospetto di Andreoli Latina. Alle 20.30 per Copra Elior sarà infatti nuovamente campionato. A distanza di tre giorni dalla sonante vittoria con Itas Diatec Trentino arriva la penultima della classe per una sfida che sulla carta sembra già scritta. Un'evidente differenza di valori, quella che contraddistingue il raffronto tra due compagini con obiettivi diametralmente opposti. Rispetto al match di andata, quando in ciociaria i biancorossi prevalsero con il punteggio di 3-1 la squadra laziale ha però cambiato pelle, a cominciare dal timoniere. Esonerato Santilli al suo posto in panchina si è del suo vice, Simoni. Sono arrivati pure un paio di rinforzi, l'opposto Starovic e il centrale Fortunato che stanno mostrando ottime doti anche in campo internazionale. La Tina infatti è la sola compagine italiana ancora in corsa in una competizione europea. Saranno i turchi dell'Istanbul gli avversari del sestetto di Simoni nella semifinale di Challenge Cup. Tornando al Copra Elior, nonostante i ritmi infernali ai quali Simoni e i soci sono sottoposti, i biancorossi attraversano un buon momento di forma. Monti darà comunque respiro ad alcuni titolari. Fei e Papi potrebbero partire dalla panchina con Tencati e Caliberda pronti per una serata da protagonisti. Anche se, come è ovvio, tutti gli occhi del Palabanca saranno per Capitan Zlatanov, mister 9000 punti.